Hanno grande fiducia, sono credo nel loro miglior momento sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale e forse, no forse, sicuramente anche dal punto di vista tattico. Hanno trovato con questo nuovo sistema di gioco, credo forse, il potere esprimere al massimo le potenzialità e le caratteristiche degli uomini che Spalletti ha a disposizione. Quindi è una squadra completa, fisica, di gamba, di grande qualità, dove tutti si muovono in concerto. Una squadra molto, molto forte. Come ho preparato la partita naturalmente me la tengo per me, perché comunque non mi va di dare piccoli vantaggi ad un avversario già di per sé forte. Sappiamo quali sono i punti forti di questa squadra e quindi dobbiamo essere bravi a limitare tutte queste loro potenzialità, cercando di mettere in campo naturalmente un lavoro di squadra, ma soprattutto alzare i ritmi, dare grande intensità alla gara, far ragionare poco i portatori di palla. Quindi dobbiamo fare una partita perfetta per cercare di tornare a casa con un risultato positivo. È dall'anno nuovo che c'è un clima diverso, l'abbiamo sempre detto, le vittorie e le prestazioni aiutano a lavorare sempre meglio. Io domani faccio fatica a mettere 11 giocatori e gli altri a mandarli in panchina, proprio perché si sono tutti allenati molto, molto bene. Mi dispiace mandare 5-6 ragazzi in panchina, meriterebbero tutti di giocare. Questo per farti capire il clima che in questo momento c'è all'interno del gruppo, però devo fare delle scelte in base alla partita, alle caratteristiche, sempre per il bene e esclusivamente del Cagliari. No, no, sta bene, anche perché lui ha sempre giocato, quindi è un giocatore pronto. Il mercato di gennaio è un mercato difficilissimo perché tante volte vai a prendere giocatori che magari sono inattivi per sei mesi, magari hanno giocato pochissimo e quindi hanno bisogno magari anche di ulteriore tempo per entrare in condizione. Faragò è invece un giocatore pronto, ha fatto le sue vacanze, perché la Serie B comunque ha le vacanze un po' più lunghe, però si è presentato in una condizione comunque buona. È normale che lavorando con noi iniziare anche ad acquisire quel passo da Serie A, perché è un giocatore di gambe, un giocatore che ha buona qualità, ha delle caratteristiche che a noi servono, che non avevamo, in attesa naturalmente del recupero completo di Ionit. Se noi parliamo sempre di percorso, sono stati sei mesi positivi, ragazzi, io lo dico sempre, una squadra che ha chiuso comunque il 2016 in maniera positiva, con 23 punti, con sei vittorie. E quindi una squadra che si è tranquillamente messa in una posizione di classifica, diciamo tranquilla. È normale che all'interno di questo percorso ci sono stati degli incidenti di percorso, scusate il giro di parole, abbastanza traumatici. È chiaro che quindi all'interno del gruppo avevano creato comunque delle frizioni, poca serenità. È chiaro che la sosta ci ha permesso, e soprattutto l'andare alla sosta dopo la vittoria corso al suolo, quindi ribaltata in quel modo, sicuramente ha permesso a ognuno di noi, ad ogni componente di questo gruppo, di fare un po' il punto della situazione, di analizzare in maniera anche serena determinate cose, le tante cose positive, ma anche le cose meno positive. E quindi cercando soprattutto un'unità di intenti totale, di guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, ma soprattutto lavorare su quelle cose che magari non avevano funzionato. Questi sei mesi mi hanno anche permesso a me di conoscere meglio la categoria, di anche sulla mia pelle aver pagato determinate scelte, determinate strategie, determinati atteggiamenti. E quindi è tutta esperienza che mi sono portato dentro e in questa sosta mi ha permesso di valutare come questa squadra di giorni di ritorno deve affrontarlo magari in determinato modo. Marco, l'ho sempre detto, è un grandissimo professionista, un ragazzo che cura veramente tutti i particolari. Naturalmente ha avuto un momento di flessione fisiologico per chi comunque non ha fatto il ritiro, soprattutto per chi era arrivato anche con grande entusiasmo e quindi era partito anche molto molto forte. Ha avuto un momento, ripeto, di flessione, ha ritrovato una condizione più che buona e quindi un giocatore soprattutto, come ho detto anche domenica scorso, un giocatore che vede la porta, un attaccante in Italia come pochi. Lui gli basta veramente mezza occasione per buttarla dentro. È normale che il gioco della squadra, soprattutto negli ultimi tempi, non aveva permesso di creare grandissime occasioni, quindi anche naturalmente le sue caratteristiche erano penalizzate. Quindi anche per quello a volte avevo fatto scelte diverse, proprio per cercare di sfruttare anche i giocatori che potessero dare di più per come in quel momento la squadra riusciva ad esprimersi, perché non dimentichiamo che abbiamo dovuto affrontare il giorno d'andata con tantissime assenze. È sempre penalizzante avere delle assenze importanti come lo sono Di Gennaro e Padoin, sono due giocatori per noi importanti. Padoin è quello che sicuramente ha giocato quasi sempre, tranne un paio di circostanze. Davide ha avuto momenti altalenanti, però negli ultimi periodi riportato anche da Play, aveva fatto delle ottime gare. Quindi sono due giocatori nel nostro scacchiere che alla lunga saranno determinanti. Ripeto, è importante domani scendere in campo con quelli che abbiamo a disposizione, cercando di dare il massimo. Ripeto, con quella leggerezza anche mentale di una squadra che va a giocarsi la partita nel miglior delle proprie possibilità. Purtroppo l'unica nota dolente è l'infortunio Di Capri, che in uno scontro di gioco in settimana ha avuto una leggera contrattura alla zona dorsale. Poi magari Paolo sarà un po' più preciso. Per cercare di averlo a disposizione completamente martedì evitiamo di portarlo in trasferta. C'è Crosta, che dopo la gara della primavera si riaggrega al gruppo. Pana è un altro di quelli che, quando è stato chiamato in causa nella prima gara con l'Atalanta e nelle 3-4 partite successive, aveva fatto vedere tutte le sue qualità, tutte le sue potenzialità. Anche se poi ogni tanto spegne la luce all'interno di queste anche ottime prestazioni. Poi aveva avuto anche lui un leggerissimo calo fisiologico. Anche lui, ripeto, non ha fatto ritiro con noi. Aveva fatto poco o nulla di amichevoli col Torino. Quindi comunque ha avuto questo calo. Poi l'infortunio alla caviglia. Lui ha un fisico abbastanza possente. Quindi magari ci mette un po' a ricarburare. E naturalmente Domenico ha buttato nella mischia così dalla panchina al campo senza neanche un secondo di riscaldamento. È normale che uno come lui, che non giocava da parecchio e che ha quel tipo di fisico, ha avuto bisogno purtroppo di 30 e passa minuti per entrare in condizione. A meno in temperatura, come si suol dire, in termini automobilistici. Poi l'episodio, il tiro che ha permesso poi al Cagliari di pareggiare. Secondo me lì l'ha anche, sotto il punto di vista psicologico, caricato ulteriormente. E poi ha fatto, secondo me, un'ora da ottimo calciatore. Un pregio è un limite di questa squadra. Che sonnecchia e poi quando si accende diventa devastante. E lì sono solo aspetti psicologici, non ci sono altre cose. Io credo che la leggerezza deve farci scendere in campo sapendo che ogni qualvolta abbiamo noi la palla dobbiamo avere la consapevolezza, la fiducia di voler andare a far gol. Quindi non avere il timore di fare la cosa giusta, di fare il dribbling, di fare un tiro, di provare a fare senza paura di sbagliare. Poi dal punto di vista tattico è normale che affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere bravi a chiudere tutti gli spazi e interpretare al meglio le due fasi di gioco. Quindi è normale che il giorno d'andata, come ho detto in precedenza, determinate partite ci hanno insegnato molto. Sbagliare umano, perseverare è diabolico. De Iola è uno dei ragazzi che dovrebbe rientrare alla base. Quindi per completare comunque un pacchetto di centrocampo che alla lunga può risultare determinante. Ripeto, è arrivato Faragò, arriverà De Iola con Ionita, Padovini, Di Gennaro e Taxidisi, credo che De Sena sia un centrocampo abbastanza completo.